Ciao ragazzi, oggi io e mio zio Lorenzo proveremo a fare una cosa molto particolare Oggi siamo qui su Call of Duty Black Ops 3 nella modalità zombie a provare una custom map molto famosa ovvero Cheese Cube Unlimited Ci divertiremo molto a giocare questa mappa al quale il creatore piace apparentemente molto il formaggio E lo so nel video può essere brutto vedere lo schermo condiviso e non una visuale unica Però eravamo lì, lui era a casa mia, non potevamo fare altro Attenzione al momento Vai, ci scuba al limite Coprimi, vabbè no La sensibilità è un po' Ah, tassi normali Occhio che arriva l'acqua, bisogna montare la puttana Eh, fai tu, fai tu Eh, non so dove sono i pezzi Allora, io mi ricordo che la seconda o la terza porta è il jug Via, via, bisogna scappare Prendi già un'arma e l'armetta a muro Oh merda, oh merda, oh merda, muoio Corri, corri, apri, apri Non hai punti Oh merda, corri, corri, corri Oh merda, muoio, il greppo, morto Dai con calma, son peso Il pacca morto Il pacca morto Eh, vabbè, ma come faccio? Come faccio? Restata, restata Poi occhio Oh Aspetta che c'è, aspetta, ferma Stai fermo Prendilo No, scherzo No, no, no Quanto costa? 2000 Facciamo i punti Oh Dietro Allora, tu vai sotto Uno sopra, uno sotto Vai, apro Apri Vieni, vieni Qui c'è il parfum Oh No, non aprire Merda Vai, vai, tu sali sempre Salito, salito Vieni, vieni Eh, mi sembra Vabbè, ma che c'ho già Oh merda C'è il puttaniere No, no, no Quello no Ok Ok Vai, vai, prendilo Dopi punti Guarda, prendilo E copri Dietro, dietro, forza Fatto No Su un pollo Eh, su un pollo, sì Gombolini Madonna, è più difficile di quello che pensavo Eh, 4.000 Oh, è il mio P40, io lo prendo Allora, provi, dai Ma ci abbiamo ancora visto qui Oh Dietro Oh Merda, ho preso il jug No Ristar Lo stai registrando? Sì Vabbè, fai i punti Fai i punti Cos'era? Cos'era? Vieni, vieni tu Vieni tu Apro Sali, sali Ok Occhio dietro Bomba Prendila Prendo? Sì Qua, bisognerebbe aprire Perché c'è il jug Dai Arrivo Oh merda No, 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 c'è il napalm C'è il tizio napalm Ma è esploso? No, è appena spawnato Oh merda C'è un, ti ricordi? No No, lori Cos'è? Vai, vai che ti copro Cos'è? C'è un bonus sopra Muni Ma Vieni mi Posso salvarmi Sei sotto? Non sei nell'acqua Arrivo Eh, ma così muoio di nuovo Aspetta che non vedo Eh, ma muoio di nuovo È vero Porca giuna Dobbiamo farli un po' di tentativi E' certo, è normale È difficile Oh Oh Avanti, l'avanti, avanti Oh, c'è un perk C'è un perk Vai, prendila No, 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 no Sono il coglione Sono il coglione Hai preso il perk Ma non Ah, speedcola Vabbè Eh, bello Lo perso Ah Morto Gambizziamolo, gambizziamolo Veloce che sale l'acqua Poi non puoi più rianimarmi Sì, sì Oh Oh, uomo, non morì Dopo punti Bombone, bombone Prendi, prendi Eh, questa fill è buona, eh Dai, qua abbiamo startato bene Eh, jaggo Ah, sì Cerciamo di prendere certo cazzo di jaggo di merda Vai, copri sopra Sì, ma dillo quando stiamo morendo sotto, eh Va, va, buone, buone Io già poco ce l'ho Eh, quanto ci manca? Ah, giusti, giusti ce l'ho Eh, sì Sì, dove c'è? Aaaaaah, dobb benefici C'è un RAM KYB Prendilo, prendilo ho finito Guarda prenderlo Ti man�o morire No No Non divano anche dallak Rigen Sono caduta, sono un porco di religione Rispaono dopo, tanto oh 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 dietro dietro ok po che amo non c'è un'arma a muro perché c'è l'armamuro dove non l'hai vista a cui vicino a te non ce n'è piano è no 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 morto no lori si è caduto no no sono qui sono qui ci sono un po di gente è zoppato uno ne zoppato uno ne zoppato uno e lì e lì si è ucciso una e lì ma porco il pesto madonna apri apri fai 4000 api a no non ce l'ho ma no falli fai non fare per cui sono morto sono morto mazzemmo madonna santa cristo ma allora stavolta li devo fare io i punti quanto costa 8000 e vedi mi faccio io dai vai o per 2 modo mazza e ma stavo ricaricando che dillo devo ricaricare cristo quante le guarda giù sto ricaricando e ma spavano anche dietro è come fare i punti fare i punti ora devo fare io ma bisognerebbe aprire o più in tramo ciao pregati anch'io no sono caduto alla fine no che mi rianima comunque si gioca troppo bene di vero è l'abitudine del player apriamo vai vai avanti vuota che paura madonna santa ora da volta poi puoi tu li fai volare le munizioni dieci sei mila sei mila falli 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 e sta che prendi lo è un attimo e no ora prendo e e o no io se merda non le faccio lori copri sopra bomba prendi la c'è un perc sotto c'è un perc sotto e che perché non importa lori non è la cado sono caduto lori aiutami non sale eh si è tolto basta come hai fatto da dove salti dallo sterro o all'interno dall'interno mi devi coprire ciao fai apri un po il culo che c'hai vista io ci provo è però qua pure favore dai c'ho fatta dietro no l'aria finito non posso fare niente prendi l'arma al muro prendi l'arma al muro dov'è non c'è ce n'è un'arma al muro no non c'è non posso sparare non ho capito guarda c'ho due caricatori guarda che c'è un'arma al muro dovresti scendere dio ho finito le munizioni dio ce ne hai ce ne hai no apri apri è veloce vai avanti vai vai oh merda di pari c'è un'arma al muro qua 4.000 4.000 te li hai c'hai già i punti ma non posso salire guarda quanta gente c'è prendo l'arma indietro lo spazzemmo ciao pronto eh vabbè ma non si sa dai non fa danno prendi dopo i punti muoviti apro non lo ri apri non mi fa freddo occhio stavolta li faccio io punti occhio che arrivano non mi fa saltare tu non lo sai 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 vai bravo non ci saranno niente non c'è aperte finito l'amore ho finito tutto no 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 amo io dovrei andare a prendere il c'è qua l'arma sono un deficiente l'ho presa partemmo buonissimo cosino rapida no non l'ho per me eh sei da puttana eh un veloce subito no il porco cristiano io non posso permettermi una altra cosa 8000 devi fare tu quanto è sfruzza sfruzza stai davanti da ringhiera da ringhiera da ringhiera no no la retta lì non ci amacciamo eh arrivare sopra senza che vuol dire più avanti non dover uccidere per forza era un try bellissimo no il max ammo no queste cose questa è una seduta questa è una seduta